Il quarto di finale è contro l'Inter. Il Villarreal perde a Milano 2 a 1 e si presenta al Madrigal per ribaltare il risultato. I Nerazzurri sono pieni di argentini, Verón, Sanetti, Samuel, Gambiasso. I padroni di casa riescono a sfruttare soprattutto la rabbia di Verón, che vede Enri Chelme e compagni, un gruppo di giocatori protetti da Peckerman in nazionale. All'intervallo lo si vede lasciare il campo mentre litiga con Sorin. Per tutto il match non fa che discutere a brutto muso con i suoi connazionali. Ma alla fine la spunta al Villarreal, perché Richelme mette una punizione sulla testa dell'amico Arwa Barena, che non sbaglia. Richelme obrò il milagro, titola Haas.